Il piacere e il dolore. Rivelazioni sull'assoluto. Cerchio Firenze 77. Attraverso Roberto Setti. Ma il processo della percezione per rivelarsi deve sottostare al gioco dei contrari. Il piacere, il dolore, il caldo, il freddo, eccetera. Nei rari momenti in cui vi sottraete a questo gioco o dopo un enorme travaglio interiore, quando tace il pensiero e il desiderio, qualcuno di noi può aver provato un sentire nuovo in cui cessa il tempo, in cui v'è pienezza, beatitudine e sembra di poter contenere tutto quanto ci circonda. Ebbene, questa non è che una sensazione, è una pallida idea di quel sentire del quale vi parliamo, che è uno stato di coscienza che esiste in sé e per sé e non più in funzione della percezione. Questo stato di coscienza può esistere al di là degli stimoli, tant'è vero che l'individuo che l'ha raggiunto durevolmente lascia la trafila delle reincarnazioni. Egli è allora puro sentire, coscienza pura, e sarebbe assurdo pensare che l'essere che esprime questo stato di coscienza studiasse, conversasse, si recasse. Queste sono attività umane. Ciò che è conosciuto come ego, come sé, non ha questa dimensione umana. Sarebbe altrettanto assurdo pensare che il sé, l'ego o lo spirito, secondo Kardec, fosse un quid che da relativo divenisse assoluto o che, in qualche modo, divenisse. Niente può in realtà divenire, tanto meno lo spirito. La stessa espressione dalla potenza all'atto non è giusta. Se con essa si intende un accrescersi, un trasformarsi, un mutare, un destarsi dello spirito. Com'è costituita allora questa parte più sottile di ogni essere, tanto per chiamarla in qualche modo? Spero che non penserete ancora ad un frammento di divinità emanato da Dio che fa vivere e crescere un essere in realtà da Dio distinto. Fra le dimensioni in cui impera la percezione e la realtà sembra del tutto esteriore, cioè fra i piani fisico, astrale e mentale, tanto per intenderci, e la realtà ultima, esiste una dimensione intermedia, ancora soggettiva, perché di oggettivo, non ve che lui, che noi abbiamo chiamato convenzionalmente piano acasico, ma che potrebbe essere stata chiamata piano delle individualità, o più precisamente ancora condizione d'esistenza, comprendente vari stati di coscienza, ciascuno dei quali potrebbe essere la realtà in modo sempre meno limitato. Questi stati di coscienza sono la divina sostanza-spirito, virtualmente circoscritta, delimitata.